Ehi, questo è il Simone, Simone. Questa cosa... Questa cos'è. Questo è il yogurt. Allora, Jacopo ha mangiato questo. E ha bevuto... Lo yogurtone. Lo yogurtone. Molto buono. Bevi lo yogurtone e farai un gran cagatone. Altro che le cibono, minchiate anche. E poi c'è tale, il rimanui di turno. This is my collection. Yeah. Ma alla fine. Facciamoci un po' di sta cosa. Ehi, look, look, look. Io tolgo.